Bella raga, siamo qui oggi con un nuovissimo video Dove cazzo stiamo andando? Dove cazzo stiamo andando? Dove cazzo? Mi caghi dio p***o Eh ci sta come intro Eh infatti Comunque, bella a tutti ragazzi, siamo qui oggi con un nuovissimo video Io sono sempre il vostro carnico per finta Siamo qui sempre i compagni di TDA Come potete vedere Tiemmino caricato Di qua, ondina caricata Stiamo andando alla nostra prima gara Eh sì, alla fine abbiamo deciso di andare Sarà una cosa molto easy Vedrete durante il giorno le riprese Le condizioni Nostre fanno schifo E quello del tracciato, beh c'è il sole Però non sappiamo ancora Adesso andiamo giù, vediamo E niente, comunque secondo me ci divertiamo un po' Anzi no, per divertirci non lo so Però salta fuori qualcosa di ignorante Perché me lo sento oggi Qualcosa così, proprio così E... Che cazzo è? Ah, lol Vabbè Comunque ci teniamo aggiornati durante la giornata E vi faremo vedere È la nostra prima gara Allora Iscrizione fatta Moto scaricate Abbiamo dovuto crearci numeri Cioè 97 con lo scotch Adoro Cioè assurdo Mentre lui Lui è già pronto E lui ha le tabelle rosse Abbiamo stato l'isolante rosso Si è dovuto fare un numero davanti Quindi niente Adesso ci cambiamo E dopo si inizierà a dare del gas Da questo momento in poi Decidiamo di fare qualche Piccola perlustrazione Delle prime due curve Tre del percorso Giusto per capire più o meno Come Sarebbero state almeno Le prime due o tre curve Perché poi dopo comunque Ci sarebbe stato Il giro di ricognizione Per poi capire Com'era effettivamente Il percorso Siamo pronti Adesso si entra TDA entra per primo Fa due giri di ricognizione Sensazione a freddo? Panico Paura Boh ci sta dai Poi dopo io entro Perché faccio parte del secondo gruppo Quindi Daghe Allora TDA è già dentro Ha già fatto due giri di riscaldamento E Adesso sta già facendo La prima manche Diciamo così Sta già tenendo i tempi Sono due giri a tempo Qua lì entra Tutto sotto bosco Diciamo E Poi dopo di qua C'è No Qua via C'è tipo un prato E Quindi lì è tutto aperto Adesso vedremo Quando uscirà Allora Ho fatto la prima manche Tutti e tre E Durissima C'è qualcosa lì Adesso non ho messo la GoPro Però dopo La torno La metto su E TDA ha avuto un po' di fastidi Con la moto Che adesso sta vedendo di risolvere E Lui è anche piuttosto stanco Io anche Però ci sta Però bisogna Metà del gran cazzo Cioè è una cosa incredibile E niente Adesso Tornano dentro loro Tra poco E io giro già nel pomeriggio Però Quindi Ci vediamo dopo Con l'aggiornamento Vi metterò Metterò la GoPro Non giro nel pomeriggio Tutti e due volte la mattina Ah Tutti e due volte la mattina Dopo l'ultimo turno pomeriggio Tutti e due volte la mattina Onesto Onesto Quindi Niente Ci vediamo dopo Allora Abbiamo mangiato Già fatto due manche Allora abbiamo visto adesso i tempi Io sono quarantesimo Lui è Trentesimo TDA TDA È cinquantaduesimo E È caduto Si è smantellato contro un muro Però sta bene Quello è l'importante Ehi oi Un albero Beh dai è la stessa cosa Eh infatti Prima erano i problemi con la frizione Che gli moriva la moto Cioè tirava la frizione E dava dritto lo stesso E di grazie che c'era il meccanico E di grazie che l'ha aiutato Esatto A mettere a posto E Poi ha preso l'albero Perché stava facendo la tappa Un tipo Questo qua ha iniziato Lui l'ha fatto passare Lui l'ha fatto passare È uscito pista È uscito dalla traccia E Ti opposto Uff Qua qualcuno No veramente Cioè Questo qua L'odore è assurdo Cioè E oltretutto Quando te la becchi in linea Cioè Fantastica Vabbè Comunque All'una e mezza Adesso è Mezzogiorno è 55 All'una e mezza Abbiamo Un altro Un'altra manche Partono prima loro due Sempre Poi dopo parto io Poi dopo c'è il terzo gruppo Che sono bambini E donne E E Storiche Eh E E Dopo Si torna a rifare E dopo è finita Quindi vedremo a fine giornata Come riusciremo a pizzarci Che 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 Merda! E' un corco! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti